Siamo soprattutto a mostrare di essere, di aver lasciato veramente alle spalle tutto l'incidente che questo inverno sono contenuti diversi mesi di distorto, tanto qui ci siamo apprezzati proprio da tutti gli altri, quindi sicuramente non credo che ci possano essere degli nomi di istituzione, se il Parlamento di Fettelo riuscirà comunque ad arrucchiare il secondo conto che gli italiani ha di certo affetto una grande oltre una delle spalle. Siamo in questo senso, ma non credo che non è dedicata ad essere l'ascerzio, ma non è dedicata ad essere, di essere, di essere, di essere, di essere un paio, di essere un paio, di essere un paio, di essere un paio, di essere un paio. sotto la spinta del liveccio le nuvole corrono e cambiano continuamente il paesaggio sto riprendendo la cima del libro aperto non so se si vede comunque vedete un continuo cambiare di paesaggio nuvole nere nuvole biancastre corrono lungo il crinale spariscono e appaiono è un continuo divenire che si rinnova